ecco ragazzi allora che mi dite di Bogotà? bellissima, bella accoglienza, bella città e voi che dite? bello tutto, bello tutto, c'è quest'area un po' rarefatta per noi perché siamo a 2600 metri ogni tanto sembra un po' di stare di incubatrice però va tutto veramente bene abbiamo appena visitato il centro commerciale della città, il più nuovo, il più grande, molto moderno tu che mi dici? ha già detto tutto lui, non è che posso dire mi è piaciuto il caffè? il caffè è ottimo, poi se devo essere sincero a me sembra di stare proprio in un altro paese sembra molto diverso dall'Italia, stai scherzando? poi quando parlo non mi capisco, ma anche in Italia non si capisce lo stesso in Italia non viene compreso sempre, e allora non è tanto diverso buono il caffè, io ho trovato molto buono anche il caffè ti è piaciuto? si, si, si dirlo Gian Pascuale che di solito non vedi il caffè ah è vero quindi che non vendi il caffè mai no, no, no io ho trovato impeccabile invece Don Francisco ah grazie, grazie, grazie grazie tanto va bene grazie